Salve a tutti! Oggi stiamo qui per presentarvi una delle attività più importanti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, l'attività di educazione stradale nelle scuole medie e superiori di Firenze. In 4 anni i nostri ragazzi sono passati dall'essere alunni a dei credibilissimi insegnanti e la loro materia è la sicurezza stradale. Con la loro grande arzoratoria cercano di sensibilizzare e responsabilizzare i giovani su un tema che li riguarda molto da vicino, essendo la strada la prima causa di morte in Italia e in Europa al di sotto dei 40 anni. Raccontiamo che era Lorenzo e la sua storia, quali sono gli obiettivi e le attività principali dell'Associazione, il piano David e la proposta di legge per l'introduzione del reato di omicidio stradale. Al principio trovare le giuste parole per farsi ascoltare era difficile e infatti i risultati hanno sentato ad arrivare. Ma con l'aiuto di un grande maestro, dopo prove e prove, siamo finalmente riusciti a catturare l'attenzione di un pubblico molto difficile, anche con qualche subdolo trucchetto. Raccontare chi era Lorenzo non è mai qualcosa di semplice, soprattutto per chi era suo amico, ma proprio grazie al suo ricordo speriamo che i giovani, il futuro della nostra società, possano davvero imparare a tenere comportamenti idonei alla guida e capire che il divertimento può essere anche responsabile.